Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questa giornata non può essere soltanto una ricorrenza, una celebrazione, un ricordare che siamo contrari a queste aberrazioni incredibili. Deve essere la giornata in cui ci si assume un impegno serio, costante, quotidiano, perché ciascuno di noi nel proprio impegno lavorativo, nel proprio impegno politico, nella vita familiare, come a scuola, possa e debba ricordarsi di dire quotidianamente basta.